Ciao a tutti ragazzi, sono NDD e bentornati sulla Monster Allora, come potete vedere qui ho allargato un po' Ho allargato un po' perché voglio mettere altri tank qui Vorrei riempire questa zona qua più o meno così Per poi portarci la lava dal Nether Uno di voi mi ha detto di non fare la Power Armor Perché è troppo dispendiosa qui e su e giù e su Però io ho anche risposto, ti ho anche risposto Se non erro, nelle due puntate fa E io sto facendo quella in realtà Perché vorrei andare nel Nether un po' più protetto Nel senso, avere un po' più di protezione nel Nether Perché adesso fa un po' schifo Per non sprecare diamanti e quant'altro Poi, mentre facevo il tutto Sono morto Sì, sono morto Mentre scavavo e cercavo l'Emerald Sono morto Allora che ho fatto? Ho perso il diamante Sì, il diamante è il piccone L'ho dovuto rifare Perché praticamente mi è esploso un Creeper A fianco Mentre... Oh cazzarola Quello è un coso Che cazzo ci fai qua? Pigman di merda Che ci fai qua? Pigman? Muori, muori, pigman Muori, muori Non ci puoi venire qui No, devo bloccare Devo bloccare quell'affare Oh Devo bloccare sto coso Fermi Mi serve sabbia Mi serve della sabbia Devo bloccare l'entrata Oh, 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 fermi Porca vacchettina Eva Questi sennò entrano come dei porci Come dei porci Devo bloccare qui Devo bloccare qui Assolutamente No, 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 no Ah, facciamolo con la cobblestone Perché con la cobblestone Mi è più facile poi eliminarla Etta Etta Bene Porca vacca Sennò qui Ci riempimo di quei cosi Ok Oggi Volevo fare un'altra cosa Volevo levare questi due solar panel E fare il low solar panel Che è quello medio Che mi ha sempre consigliato uno di voi Me l'ha consigliato Perché comunque È come se ce ne fossero dentro Otto Di quelli normali E poi perché Andiamo A vedere Dov'è Perché sto in Perché in Ah, sì, sono sempre le prove Io non capisco Perché cacchio Ok, perfetto Andiamo su Solar Panel Il low No, 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 no Solo solar Low voltage solar Array Questo qua E ne servono Tipo 3, 6, 7, 8 E un LV transformer LV transformer Che si fa facile A quanto pare Sì, si fa facile Allora Innanzitutto Buttiamo via sta cosa Che mi sta sui coglioni Allora Facciamo un LV Transformers Un LV Transformers Allora Questo Lo posso anche Cuocere direttamente Questo Questo Non me lo smacera Va bene Quando è finito Mi scuoci quello Intanto facciamo riparare Il piccone Che ci ho rimesso La mostona Di merda Facciamo il low Che si fa Con questi Con I copper cable No Mi serve Mi serve il copper Eccolo qua Poi mi serve Un pezzo di ferro Se non erro Era ferro Per fare questo Affare qui Sì Ferro Basic machine Eccolo qua Ferro E ok Si sta ricaricando E dobbiamo fare Tutti questo Intorno E questo Al centro Benissimo Poi mi serve Del legno 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 Ah Avevo preso io Legno Mi ricordo 6 pezzi di legno E facciamo Questo così Uno qua Uno qua E questo qua E abbiamo fatto L'LV transformer Dopo l'LV Dobbiamo fare altri Noi ce ne abbiamo 2 di là Quindi altri 6 Servono altri 6 Questi qui Che si faceva Con il coal dust E questi elettrici Il generatore La batteria Maledetta Batteria La odio Io la batteria La odio Dobbiamo fare Tin I cavetti di tin Tin Quindi ci serve Tin Ci serve questo Che è l'iron Sbattuto Per fare quello Poi ci serve Il martello E le forbici E poi ci serve Anche della Gomma Che non ho La gomma Non ce l'ho Dove l'ho messa? Non ce l'ho Devo andare Mi rimetti Tutta sta roba Qui per favore Questo mettiamo Qua per ora Questo no Mi serve Questi qua E le frecce No Davano qua le frecce Se non erro No Dove stiamo? Allora Eccole qui Anche se ho l'arco Ma non ho le frecce Ma non mi interessa E poi 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 Dark iron Lo mettiamo qua Il cadmium Che mi ha fatto Lo mettiamo qua E a posto Ora Andiamo a prendere Usham 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 Prendiamo Il nostro bellissimo Gommone La nostra bellissima Gomm E non ho preso Quell'altra Mannaggia Tette Quando svengo Mo lo famo elettrico Perché è già messo a stressare Sto coso Ne abbiamo fatti due Apposta Ho detto così Se mi si rompe Ce l'ho E poi me lo so Scordato dentro E sono un idiota Sono un idiot Allora Dobbiamo fare Il tritatutto Perché così Abbattiamo Gli alberi Che non hanno La gomma E ce la facciamo Estrarre Dobbiamo fare L'extractor L'extractor Dobbiamo fare Però prima Voglio fare Lo voltage Qui Perché così Almeno ci aiuta Ah E porca Pacchetta Dov'è? Dov'è? Ah Eccolo Ah Beh Guarda che te smonto Dammi qua Dammi qua Voglio tutti 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 I tuoi pezzi Di gomma Grazie Grazie Morto gentile Morto gentile Dammi qui Quanto siamo arrivati? 21 Ancora voglia Dobbiamo fare Un botto Dei pezzi Mia Mia Bella Sta farm Degli alberi Ho fatto la farm Naturale Scusate Senza fare Tante storie Tanti Tanti ripicche È una farm Naturale Di gomma Meglio di così Se more Se dice a Roma Ok Perfetto Dovrei averlo preso tutto Poi se qualcosa Non so scordato Ci c'è al culo Ma che se Eccolo Ok Perfetto Non vedo più pezzi Io vado A cuocere 36 Ci balliamo Intanto facciamo I cavi di tin I cavi di tin Mi lega questo Dalle maniche Mi dà fastidio Vederlo Ok Metti qua Ah Dobbiamo fare anche Questi di tin Se non sbaglio Perché dobbiamo fare Questa Ferro No Non questo Non questo Non ci attende Quando sviani Questo Mi serve Questo Quindi anche I copper cable Ho fatto bene A cuocerli Dobbiamo fare Le batterie Quindi Poi Trasformiamo Questi In cavi Così facciamo Le batterie Poi trasformiamo Mi servono 6 batterie 6 batterie Madonna Rega la roba Che temo fa Cioè Ma state a vedere Quanta roba Temo fa Vi rendete conto Di quanta roba Temo fa Allora Redstone Redstone E facciamo Intanto Le batterie Che mi pare Che si faceva Redstone Al centro Questi due Questi quattro Qua E non mi ricordo Più la batteria Ma si faceva Ah Il cavo Questo qua Ok Una Dobbiamo farne 6 Che servono 6 general 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 Thermal Lì Quindi 6 3 4 5 6 Poi 6 6 6 7 8 7 8 8 9 10 10 12 12 4 4 E no Non basta Sono tardo Perché è doppia E non l'ho contata Sono tardo Sono proprio tardo So tardo come so tardo Perfetto Adesso dovrebbe bastare Questa maledetta tin di merda 6 Non basta lo stesso Non basta lo stesso Guarda Non ho già Non basta lo stesso Quanta tin sto sprega Per fast affari Dovrebbe bastare Adesso 4 5 6 Sì 24 Bastava contare Però André Pure testa E fuso Bastava contare Santa Lucia Ok Poi 6 pezzi qui Ho messo i 7 E' uguale Mettiamo uno qua Via Ok E 6 pezzi di questo Ok Mio E ne ho fatte 7 Ma porca vacca Maledetta Vabbè Cicci al culo Chi se ne frega Allora 3 E un iron fornace Quindi dobbiamo prendere Un po' di cobblestone Perché dobbiamo fare 6 Fornaci 1 2 3 4 5 E 6 So contare Wow Ne sono imparato pure a contare Poi dobbiamo prendere Tutti questi E fare gli altri di ferro Dov'era il ferro? L'avevo preso io il ferro Se non sbaglio No Uno solo Quindi rifacciamone un altro Sbattiamo ancora altro ferro 31 dovrebbero bastare In teoria Allora 6 Poi Come andava messo? Non mi ricordo più 2 4 5 Quindi 5 per 6 30 32 44 82 64 25 Eh sì che vanno bene Magari facevo così Ok E 6 pezzi ce l'abbiamo Poi Dobbiamo fare 6 Be Electronic Circuit Per fare quelli ci serve Un po' di Gomma Per trasformare Quei 25 pezzi Per fare i cavi Madonna regà Che impiccio gigante Porca vacca Mamma mia Che impiccio Della puttagna Allora Ci serve Altro ferro Sbattuto Però prima Devo rifare questo Perché uso Uno Come si faceva Questo affare Ah sì Due pezzi Di bastoncino Bastoncino Non c'ho il bastoncino Non me ne ho fatto un tubo Lo faccio con questi Due pezzi di bastoncino E Cinque Pezzi Ok Perfetto Abbiamo il prossimo Poi Spaccami ancora questi Ok 9 10 E li fatti tutti Per forza Allora Allora Facciamo questi 4 5 6 Ne servono 12 In realtà Di questi Porca vacca Perché 6 Ah sì Perché 6 6 vanno con Aha Ho sbagliato Vabbè ne ho 25 Sì Ce la dovrei fa Ce la dovrei fa 3 4 Non ce l'ho fatta Ce ne ho 5 Porca vacchetta Tocca fallarti i cavi De copper Porca vacchetta Tocca fallarti i cavi De copper Ho finito Anche quella io Eh mi serve il copper 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 ingot Ok Altri cavi di copper Martelliamo Adesso Tagliuzzamo Eh me ne ho fatti pochi Mi serve Altra Mamma mia Rega la roba Che stiamo a fa La roba Che stiamo a fa Per fare un solar panel Un love solar panel Allora Ah Signore Torra Ho sbagliato Mettiamo a posto Un po' di roba Perché mi sto Rincoglionendo La tin La possiamo Non la lasciamo Qui ho altri Cavi Oh qua Altri due cavi di copper Ce la posso fare A farne un altro Oddio Ti prego Signore Grazie Signore E ho riposato La tin Ma sono La redstone Sono proprio un Coglione Sono un coglione Sono un coglione No me lo dico da solo Rega Ditemelo anche voi Che sono un coglione Ma che quattro Un pezzo solo Ne serve Ditelo nei commenti Scrivete Sei un tardo Ok Oh Ci siamo quasi Adesso Sì Il coal dust Porca puttagna Cagniamo Tocca Smacerà 300 pezzi Di coal dust Di coal Smacerà No Fermo Mi sta su le palle Questa Portiamo giù E facciamolo da qua Allora L'uscita me la levi Mi metti nessuna E qui mi metti questi Che sto più veloce Eh E baffando mazza di solida Se permetti È molto più veloce Oh Due pezzi Ogni Oh Perfetto Dai Perfetto Perfetto Sei veloce Uh Mi fa anche il sulfur Ogni tanto Fantastica sta cosa Mi piace Posso anche cuocere L'or sulfur Se non sbaglio Eh No Mi usa di no Comunque qui Abbiamo un sacco di roba Mo Lo smestacimento cesti Che lo famo bene Così almeno Allora Innanzitutto Vorrei contare Più o meno Quanti ce ne servono Perché Uno Due Tre Tre Per Sei Diciotto Venti Diciano Venti Dobbiamo fare un po' di più Perché No No Dovrebbero bastare Diciasette Diciotto Io ne faccio Venti Ma chi se ne frega Dicennove E l'ultimo Dai E venti Perfetto Uscita qua Te ringrazio Via Vedete Quello è più veloce Dormire Che ho visto Un enderman Che gironsolava Non mi piace Dormire Ok Svegliato Buongiorno Bentornato Su Quello che vuoi fare Ma non ci riesci Allora Dobbiamo fare sei Quindi sono sei 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 Quindi Poi Sei 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 No Sto sei però Non mi piace granché È preoccupante Ah Prima dobbiamo fare questi però Che mi ero scordato Cinque Evviva Ne ho fatti quattro Dobbiamo smartellare Altro ferro Ancora Io non ne la posso fare Non ne la posso fare Sto a smartellare Più ferro io Che Porca vacca Lea da tin Copper Adesso non sta giù Sono maledetto Sono maledetto Mi scordo Sempre tutto iron Guardate il ferro Che stiamo utilizzando Regà Ma proprio Un boato Un boato Un boato di ferro Ok ragazzi Facciamo questo E nel prossimo episodio Facciamo I cosi Due Quelli che servivano Erano due E due Ne voglio fare Ok Generator Fatti E li mettiamo qua Questi Devono essere dodici Perché ne ho fatti solo sei Devono essere dodici Vabbè intanto ne fammo tre Poi nel prossimo episodio Faremo gli altri Porca Porca Ho sbagliato Ho sbagliato Ho contato male Ho contato male Porca Ho contato male Ho contato male Ho contato malissimo Vabbè Non fa niente Che intanto ne facciamo tre Poi ce ne abbiamo due lì E so cinque Ne mancano tre Perché mancano tre Di questi Brutti ceffi qui Serve il copper E altro E altro Cavo C'erano otto lì Che possiamo trasformare Benissimo Ce la facciamo No Non ce la famo Perché io ne devo fare Altri Due Quattro Sei Altri sei Vi devo fare Vabbè Nel prossimo episodio Facciamo il resto Ragazzi Scusate Questa era un po' Moscitta Ma Sto cercando di Costruire più cose possibili Per allungarmi un po' I tempi Se no qui Affettiamo a Natale A fare le cose Mi serve l'Emerald E andare a cercare l'Emerald Assolutamente E niente Noi ci vediamo in un prossimo episodio Come sempre sono Andy D Mi raccomando iscriviti al canale Lasciate un commentino No scherzo Fate quello che volete Come al solito Io intanto mi prendo un po' Di Questo a fare qua E lo metto a cuocere Ok 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 Perfetto E noi ci vediamo in un prossimo episodio Ho finito il treat up Un'altra volta Cos'è quello a fare Che ho lì a destra E Ah si Della power Madonna Mancomo Vi giuro Regà Non ci ho proprio fatto caso Fino adesso Pensate come sto Fulminato Comunque Noi ci vediamo in un prossimo episodio Come sempre sono Andy D E Niente Ci vediamo Prossimamente Per forza Mannaggia Mannaggia Ho fatto male I conti Meno male Guardate Molto sto vero Ho fatto male i conti Guardate Che sto Tribolasto Per aver fatto male i conti Vabbè Noi ci vediamo in un prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti